Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a tutti i ragazzoni Ho sbagliato l'intro lì che è scusata Ciao a tutti i ragazzoni e benvenuti a tutti i ragazzoni di Prova09 Volevo farvi questo avviso molto piccolo Questo video durava almeno un minuto Perché è molto piccolo Diciamo sì Allora vedete qua Live dal party reale Non perderti la prima mondiale di Diplo Presence Thomas Wesley Con gli ospiti speciali Young Thug E Noah Cyrus Live sul palco principale venerdì 26 giugno alle 3 del mattino Ora italiana Ecco Non mancate a questo evento Stare in live insieme a qualche mio amico forse Ecco volevo dirvi solo questo Di non mancare a nuovo evento dal party reale Ciao ragazzi